Ciao a tutti ragazzi qua Dexta e oggi sono qui con questo nuovo video su GT5 Online Con nuove gare stante, sono state aggiunte ragazzi le nuove gare Infatti abbiamo le Rocket Voltic, qui probabilmente utilizzeremo il propulsore 3, 2, 1 e si parte subito, vai subito, sparati così al massimo Allora, questa ragazzi è la primissima gara che gioco Appunto di queste nuove gare, quindi non so cosa avremo però Già logicamente con la nostra Voltic dovremo utilizzare il propulsore Vai così, perfetto, allora ragazzi non lo so è la primissima gara Siamo in pochi perché c'è veramente poca gente connessa al momento Però va bene così almeno ce le gustiamo, vai! Ok perfetto, super salto andato Allora qui abbiamo dei tubi, comunque dovrebbero esserci ragazzi dei nuovi oggetti anche Ecco tipo il turbo già qui, diciamo nuovo perché è giallo Vai 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 andiamo, andiamo propulsori Diciamo che non ti ricordi proprio di utilizzarli Cioè di utilizzare questo turbo del propulsore Allora andiamo qui, ok siamo atterrati Uno mi è arrivato praticamente accanto Come vedete ho la mia praticamente Voltic personalizzata Cosa molto bella ragazzi, questo era un dubbio che avevo Ma alla fine si, si possono utilizzare i veicoli speciali anche personalizzati Andiamo qui propulsore Vai passiamo dentro al cerchio, perfetto Andiamo di nuovo Vai vai che quelli li prendo, vai che quelli li prendo Cioè praticamente si ricarica subito comunque il propulsore ragazzi Vai 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 al massimo, al massimo Vai Andiamo 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 Andiamo, vai prendiamo qui tutto il turbo Vai 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 Velocità, che cazzo quello stava saltando Andiamo, ok siamo saltati Ah ma forse no, forse ragazzi quelle cose li ci ricaricano continuamente il propulsore Penso di si perché all'ultimo avevo praticamente come se l'avessi infinito Non lo so, strano Adesso devo vedere, è la prima gara che gioco quindi Devo un po' capire ora anche le varie cose di questi nuovi oggetti Però penso che forse sia così Allora andiamo Vai vai Merda quello mi è passato accanto Vai vai Velocità Velocità Ok usciamo ora dal tubo Perfettissimo Ho preso la scia Vai volo Merda merda Cioè ho provato praticamente ad utilizzare il propulsore Mentre ero in volo E ha funzionato Però è stato molto rischioso Vai Ok qui ci siamo Andiamo ancora ragazzi Mamma mia fantastico E dobbiamo fare qui il giro Velocità Perfetto Curva Velocissima Merda quello non mi toccare troppo Vai 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 Turbo 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 Andiamo via Allontaniamoci Ok perfetto Quello mi ha Vedete quelli Usano le cose in volo E però sbandano Allora forse qui si ricarica automaticamente Vediamo se è vero Sì ragazzi Sì ragazzi ecco qui Avevo ragione Vai 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 Infinito Super salto Della maze bank Fantastico Tentiamo pure un front flip A che ci siamo Vai Rimaniamo stabili E sarebbe bellissimo Utilizzarlo qui Anche il turbo Però Logicamente non si può Perché già l'avevamo consumato Allora vai 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 Premiamo ancora Comunque ragazzi Queste gare Veramente sono fantastiche Non so se già Praticamente Chiunque Possa crearle Però comunque Se non ora Nelle prossime settimane Verranno anche aggiunte Nel creatore di contenuti Quindi ci saranno poi tantissime altre gare Perché queste qui ovviamente Sono quelle della rockstar Originali Allora forse adesso Dovremmo avere il secondo giro Vediamo un po' Esatto ragazzi Il secondo giro per noi Allora Stiamo attenti qui perché Veramente col turbo Vedete quello mi ha toccato Dobbiamo stare molto attenti Utilizziamolo ora Perfetto Qualcuno aveva preso la scia Comunque siamo tutti qui Gara piuttosto tranquilla Poi ovviamente c'è Immaginate le rocket volti Con ragazzi tipo Non so 16 giocatori Una cosa veramente mostruosa Però per ora Ce li giochiamo In tranquillità Vai Ok Qui possiamo andare al massimo Al massimo Al massimo Non fermiamoci mai Ok Bellissima parte ragazzi Vai qui tentiamo Un piccolo front flip Calma 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 Ok L'auto ce l'abbiamo Alla perfezione Calma ok E niente Comunque Questa è la La prima gara Abbastanza bella Poi le altre Sono con la Ruiner 2000 Guarda quello Bastardissimo Vai 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 Ripartiamo Le altre sono ragazzi Con la Ruiner 2000 E con il Blazer Acqua Praticamente ci sono Soltanto questi tre Veicoli Da poter utilizzare In queste gare Forse ci sono Cinque gare Per veicolo Comunque io Oggi vi porterò Praticamente Tante tante gare Anche la nuova auto Che è uscita La Progen GP1 Quindi ragazzi Rimanete nel canale Perché vi porterò Veramente tanti Tanti video Vai 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 Oh che super salto Andato Comunque devo dire Che sono belle lunghe Qui le gare Cosa abbastanza bella Ok front flip Andato Calma E qui ci vorrebbe Un bel colpo Già per partire subito E superare gli altri Allora andiamo E sarebbe forse Forse da lasciare Vorrei provarci Ora Al prossimo salto Che avremo Col tubo Comunque Vediamo un po' Andiamo al massimo Ok Checkpoint preso Alla fine Le gare della rockstar Ovviamente sono ragazzi Piuttosto semplici Come al solito C'è scorrevoli Insomma Non ci sono punti Morti O cose di questo tipo Però poi Quando verranno aggiunte Nel creatore E chiunque potrà crearle Ci saranno sicuramente Delle cose assurde Da dover fare Poi wallride Tipo estremi Con il propulsore E cose del genere Allora Vai che quello Me lo mangio Forse Attenzione Mamma mia Questo viola È un pericolo Calma Ok Allora Praticamente lì Ora All'ultimo Diciamo turbo Che poi questo qui Giallo Alla fine Non è un turbo È una specie di ricarica Per il propulsore All'ultimo Non lo voglio prendere Vai Vai Non prendiamolo Ok perfetto Ora Lo utilizzo in volo No no Me l'ha consumato lo stesso Niente ragazzi Me l'ha consumato lo stesso Io non l'avevo premuto all'ultimo Ma purtroppo L'ha consumato Quindi niente Non si può fare Forse Il salto in volo Allora Andiamo Andiamo Vai 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 Vediamo se posso prendere Un minimo di scia Per andare a prendere Direttamente il primo No ma niente Non penso Calma Vai giriamo qui Vai 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 Utilizziamo ora il propulsore Attenzione ragazzi Merda Niente Alla fine Sembra che prendi gli altri Mamma mia L'ho fumato quello Con la scia Comunque sembra che li prendi Ma poi tutti utilizzano il propulsore Cazzo Qui c'è il traguardo E andiamo ragazzi In seconda posizione Dai bella Bellissima gara No comunque Sicuramente qui Ci saranno da divertirsi Ragazzi veramente Soprattutto poi Con le altre gare Che verranno aggiunte Dai vari Dai vari creatori Eccetera Comunque molto bella Adesso ne andremo a fare un'altra E rieccoci qui di nuovo Con la rocket volti Che questa gara si chiama Impulso Ovviamente ragazzi Vi ripeto Nei prossimi video Vi porterò anche E le gare Con gli altri veicoli 3 2 1 E partiamo subito Vai vai Subito il razzo Mamma mia Fantastico ragazzi Si parte proprio Alla grande Allora qui siamo tipo All'ippodromo Curva Andiamo ora Ok perfettissimo Mamma mia Ho preso il checkpoint All'ultimo Vai velocità Quello mi stava facendo sbandare Che cazzo è qui Mamma mia ragazzi Nuovi tubi Fantastico Assurdo Niente Non ho altre parole Assurdo E basta Allora continuiamo Siamo in prima posizione Ragazzi quei tubi Avete visto Sono completamente nuovi Cose veramente incredibili Vai vai Velocità Velocità Andiamo Questa gara si poteva fare Soltanto di notte Vabbè piuttosto normale Perché lì c'erano Ovviamente i tubi Tutti illuminati Colorati Allora Andiamo qui Vai 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 Velocità Velocità Attenzione Uuu Eh niente Ho sbandato purtroppo Non volevo neanche colpire L'altro giocatore Vai ripartiamo Anche quella sbandato Mamma mia ragazzi Questa è una cosa fantastica Veramente E comunque Dalle immagini Che avevano pubblicato C'è anche un'altra tipologia Di tubo Come posso dire Illuminato Quindi forse Avremo ragazzi Anche tanti altri Nuovi oggetti Per legare Stunt Non ne ho idea Tutto veramente Da scoprire ancora Allora Vediamo un po' Se posso andare a prendere Il primo giocatore Vai 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 Utilizziamo qui tutto Ok Per il momento Non ho visto Diciamo La ricarica Per Per il nostro Propulsore In fondo Avevo visto Un tubo Ok Guardate qui Tutto che si illumina Praticamente Sono tipo Dei neon Ragazzi Troppo bello Troppo bello Allora Andiamo vai Velocità Velocità Dai che il primo Lo prendiamo Dai che il primo Lo prendiamo Quello dovrebbe essere Un turbo Velocità Vai 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 Ok Ecco qui Ecco Questi sono i nuovi tubi No Fantastico Mamma mia Ragazzi Una cosa Veramente Eccezionale Niente Non ci sono parole Sembra No Guardate qui Mamma mia Mamma mia Ragazzi Sembra un altro gioco Veramente Una cosa Ispiegabile Allora Cerco di continuare A fare questa gara Qui No vedete Quando la giochi Per la prima volta Una cosa del genere E Troppo E troppo Bello Cioè Non 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 so Cosa dire Non so ragazzi Veramente Cosa dire Comunque Ci stiamo avvicinando Al primo giocatore Siamo all'aeroporto Si vedete I tubi sono completamente diversi Tutti tipo neri Oscurati Devo prendere L'ascia di questo qui Per andare a prendere Quello Assolutamente Vai 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 Andiamo Andiamo Vai dammi un po' di scia Dammi un po' di scia Niente Non riusciamo a prenderla Vabbè che forse Dentro i tubi Comunque l'ascia Non si prende Proprio Proprio bene Vai 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 Curva qui Ok Quello è caduto Malissima Esplosa Addirittura Perché ha fatto il turbo Ha utilizzato il propulsore Tipo nella curva Un po' male Quindi ci è rimasto Fottuto Allora qui ci siamo Ragazzi Una cosa Veramente Assurda Calma Qui niente Il primo Non si può prendere Che poi forse In queste gare Non dovrebbe esserci Neanche l'aiuto Giocatori in coda Ragazzi Quindi E' molto Molto dura Prendere Il primo In questi casi Entriamo di noi In questo Tubo Tutto illuminato Vai 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 Velocità Ok Andiamo al massimo E di giorno Comunque dovrebbe essere Lo stesso Perché i tubi sono neri Quindi Di giorno ragazzi Dovrebbe essere Più o meno simile La cosa Mamma mia Qui ho preso Oh Cazzo Per poco Non ho sbandato Gli avevo preso Il turbo In volo Il propulsore Allora c'è la curva Calma Nella curva Non voglio rimanerci Fottuto Vai 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 Quello lo stiamo quasi Per prendere Solo che qui Non posso Non posso ragazzi Rischiare Comunque la gara era Da punto a punto Non c'erano giri Ora lo uso Ora lo uso No no Ora non lo uso Aspettate Aspettate Perché qui E' veramente un pericolo Ragazzi Andiamo ora Andiamo ora Merda Niente Per pochissimo Ragazzi Mamma mia Per pochissimo Di nuovo Seconda posizione Due gare In seconda posizione Ragazzi Questo video finisce qui Vi ho portato insomma Le prime due gare Che ho giocato Queste qui erano Con la Rocket Voltic Nei prossimi video Vi porterò ovviamente Le gare con gli altri veicoli Farò praticamente un video Un tipo di veicolo speciale Penso che sia meglio così Vi porterò anche ragazzi La nuova auto Che è uscita Quindi ovviamente Rimanete Nel canale Guardate qui Questi tubi Sono una cosa Inspiegabile Cioè però Questo qui addirittura Non riesce a concludere Niente Questo qui ragazzi Non ce l'ha fatto Non so come sia possibile Perché ripeto Le gare sono veramente semplici Ragazzi Che direi Spero che il video vi sia piaciuto Tocco di Dex Lasciate un bel mi piace E ci vediamo Al prossimo video Ciao Grazie per la visione